eccoci sulle fonti tv con una nuova puntata del fatto di marcotti appuntamento settimanale sul nostro canale per fare un po il punto della situazione scenari economici e politici naturalmente tutto collegato in questo momento ancora di più a livello globale a livello mondiale a partire dalle notizie che arrivano sul fronte russia e ucraina ma insomma oggi non parleremo solo di questo russia e ucraina il conflitto prosegue ma si sta parlando molto delle sanzioni che l'occidente ha preparato e ha già inflitto alla russia di veladimir putin questo fine settimana diciamo che il presidente russo ha rotto il silenzio rispetto alle conseguenze di queste di queste sanzioni che secondo lui stanno portando molti più effetti negativi proprio all'occidente stesso ha detto si vede già il cambio di stile di vita di questi paesi cosa ne pensate questa è una bella riflessione al di là del fatto che l'abbia detto putin noi abbiamo parlato più volte di un effetto boomerang che avrebbe potuto verificarsi proprio con le sanzioni stesse e lo vediamo proprio anche nella quotidianità per esempio col tema dell'inflazione è vero che di inflazione già si parlava non è dovuta solo alla crisi russia della russia e dell'ucraina ma chiaramente con il conflitto in corso la situazione è peggiorata poi parleremo è tutto anche oggi collegato una scaletta veramente molto equilibrata e che secondo me darà molti spunti di riflessione pasqua boom di prenotazioni si è parlato di ripresa di boccata d'ossigeno sono due cose diverse boccata d'ossigeno o ripresa economica è un primo passo verso la ripresa economica italiana naturalmente e poi appunto in tutto questo il governo che ha le prese con una serie di questioni intanto gli aiuti economici per la situazione economica scusate ancora la ripetizione in corso ma anche con riforme che devono rendere più attrattivo il nostro paese che potrebbero davvero rilanciarlo riforme che si aspettano da tantissimo giustizia fisco non solo allora giancarlo marcotti buongiorno buongiorno a te manuela e come di consueto saluto a tutti gli ascoltatori ho già parlato troppo potrei anche andare via dallo studio e potrei lasciare la parola a te anche perché queste sono le notizie le informazioni che tu stesso dai attraverso finanze in chiaro però cerchiamo di fare un po di ordine anche qui perché insomma sono tutti temi di rilievo intanto il blitz economico è fallito ha detto putin parlando delle sanzioni dell'occidente allora noi abbiamo parlato spesso io e te di un effetto boomerang che avrebbe potuto verificarsi sta accadendo allora manuele bisogna essere voglio come solito essere preciso perché in questi giorni si parla molto di sanzioni però spesso si si abusa in luoghi comuni allora è vero che le sanzioni non hanno mai sortito un effetto diciamo decisivo cioè chiariamo cuba a cuba c'è ancora il castrismo anche se non c'è più castro voglio dire e cuba non so sono decenni e decenni che è sotto le sanzioni degli stati uniti e non si è cambiato il il regime e così voglio dire se noi andiamo a vedere da qualsiasi altra parte con le sanzioni non si è ottenuto quasi mai l'effetto desiderato detto questo è chiaro che cuba sarebbe ben felice se non ci fossero più le sanzioni cioè le sanzioni pesano poi non saranno determinanti ma pesano e quindi anche sulla vita in russia queste sanzioni qua pesano e come il fatto qual è ripeto che non essendo decisive perché alla fine putin resterà lì anzi almeno a vedere i sondaggi sembra che abbia spesso succede in questi casi tra l'altro comunque aumentato enormemente la propria popolarità in russia quindi sì 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 lo seguono molti più russi che ci sono molti più russi che lo seguono che quelli che invece stanno ovviamente perdendo la fiducia è lui certo quindi da quel punto di vista lì diciamo le sanzioni per cento scusami così diamo proprio la percentuale precisa di russi che sostiene putin che è una percentuale elevatissima ovviamente ma appunto intendevo dire non le sanzioni non otterranno l'effetto di cambiare il regime mettiamola così però certamente fanno male ai russi il problema qual è è che indirettamente fanno male anche a noi allora un po egoisticamente se fanno male ai russi mi interessa sì e no se fanno male a noi mi interessa di più ripeto è una è solo una considerazione del tutto egoistica quindi non 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 voglio però di fatto è così cioè guardo in casa mia cosa succede e vedo alcune cose che insomma non stanno andando del verso giusto questi questi prezzi che continuano ad aumentare questa situazione economica nostra che continua a peggiorare quindi le stime le stime di crescita che continuano a diminuire insomma quindi quindi questo è il patto per essere precisi quindi concludo le sanzioni hanno un certo effetto purtroppo hanno anche un effetto sulle stesse persone e gli stessi stati che le mettono in atto quindi anche sull'occidente il tentativo adesso penso che ne parleremo ma il tentativo di riuscire a diciamo da questa situazione a prendendo accordi con altri stati che non sia la russia è un tentativo che lascia un po desiderare questo questo è un altro ottimo spunto un tentativo che lascia a desiderare e quindi ci siamo un po come dire invischiati in un in un qualcosa senza senza ritorno almeno per il momento perché poi se sentiamo appunto il premier dell'ucraina zelesky chiede sia più armi cioè quindi comunque chiede che l'ucraina venga aiutata militarmente ma chiede anche più sanzioni no però al momento insomma mi pare appunto come hai detto anche tu che non è che stia portando moltissimo certo allora il parlo del gas che è naturalmente aspetto più importante do dei numeri so che non sono numeri precisi ma insomma è solo per capire allora in questo momento importiamo 29 miliardi metri cubi di gas dalla russia una ventina dalla dall'algeria andiamo in algeria e diciamo vogliamo aumentare sembra che non subito ma insomma in tempi e anche qua da da stabilire ma si parla per lo meno di 12 anni l'algeria potrebbe aumentare di 9 miliardi e quindi diventare 29 ma esatto e ma se noi non compriamo più nulla dalla russia e 29 9 li recopi di algeria e gli altri 20 è una cosa da poco quindi io io non mancherebbero all'appello un bel po di miliardi di metri cubi di fatto esatto e allora naturalmente stringeremo i denti paremmo insomma utilizzeremo di meno tutto ma io penso che come purtroppo ha detto a putin a mio viso avendo ragione quando ha detto che che l'occidente non può fare a meno l'occidente intendeva soprattutto l'europa non può fare a meno del gas russo esatto peraltro fa bisogno dell'italia me l'ero segnata anch'io queste cifre compreso tra i 75 e gli 80 miliardi di metri cubi di gas quindi appunto oltre al fatto che se si cioè sarebbe arduo anche per questo motivo no sostituire pensare di sostituire il gas che arriva dalla russia in questo momento peraltro in questo contesto si è chiesto anche aiuto ai cittadini cioè le aziende che lavorino a regime ridotto che in qualche modo si possa ridurre l'illuminazione di monumenti edifici per insomma mi sembrano come dire cose abbastanza illusorie no in questo contesto giancarlo poi ti faccio continuare però volevo dare anche questi questi numeri che sono importanti sono importantissimi cioè i numeri non mentono i risparmi manuela io risparmiamo a non illuminare i nostri monumenti anche lì ho timore che siano risparmi boomerang nel senso che si risparmia briciole se non di meno ancora e comunque illuminare i nostri monumenti vuol dire insomma presentarci bene per per il comparto turistico quindi non lo so è vero è vero è vero assolutamente io temo che la situazione questa è quest'autunno e quest'inverno possa diventare e e quando si dice che i draghi non avrebbe intenzione di arrivare fino alla scadenza naturale cioè al marzo del 2023 ma lasciare qualche mese prima non vorrei che appunto in previsione di mesi che che potrebbero essere durissimi sì anche se draghi devo essere sincera non mi sembra da quel punto di vista un codardo permettetemi però però dipende da che tempi duri ci potranno essere peraltro guarda anche questo questo aspetto bravo Giancarlo perché noi adesso stiamo dicendo beh meno male siamo nella stagione calda no andiamo verso l'estate quindi possiamo tirare un sospiro di solevo sì ma l'autunno e l'inverno sono dietro le porte e queste trattative sono lunghissime ancor di più mentre c'è una guerra in corso quindi anche qui no perché tendiamo sempre un po a insabbiare le problematiche ma sì tanto in questo momento estate cioè non ancora e beh e quindi noi dovremmo già sapere quello che che ci succederà però poi magari ne parleremo insomma un po più diffusamente e quindi ti continuo interrompere ma insomma fa parte sempre dello stesso ragionamento Giancarlo altro che altro che e no hai perfettamente ragione sulla questione estate autunno inverno adesso siamo nella stagione migliore perché non abbiamo più il freddo ma non abbiamo neanche il caldo attenzione che quando avremo il caldo lavorare in ufficio con con i goccioloni di sudore condizionatori perché ho la pace condizionatori lo dico ridendo dai una battuta sì eh beh non è una cosa da poco il condizionatore adesso noi in casa sappiamo che ma non possiamo andare che ne so in un supermercato in un ipermercato che non abbia acceso il condizionatore cioè se uno lo ha acceso e l'altro lo ha spento andiamo da quello che ha acceso il condizionatore obiettivamente a certo ma anche solo guarda a parte in ufficio ma anche qui nel nostro studio senza condizionatore in estate sarebbe impossibile vi posso garantire fare una diretta perché noi abbiamo provato ad avere lo dico senza premice se era rotto a un certo punto in estate ed era veramente ingestibile perché con le luci tutto non si respira quindi figuriamoci se fosse una situazione stabile no che deve essere così quindi potrebbero causarsi anche dei 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 cortocircuiti proprio a livello economico e di attività che non riescono a lavorare no comunque ecco e quindi e quindi questo questo invischiamento in cui siamo e quindi secondo me sono due due cose magari sto stando anche nella prossima domanda che hai già anticipato con con la tua presentazione cioè quella del possibile io non gli metterai anche un punto di domanda ma boom turistico adesso a pasqua va bene parliamo di quello assolutamente lo collegavo appunto questo cioè effettivamente se noi andiamo a vedere pasqua noi non l'avevamo fatta noi l'anno scorso per lo meno va beh io non sono un amante del del mare ma comunque insomma le le vacanze estive le vacanze estive le avevamo fatte no l'anno scorso non non c'erano quasi restrizioni ok e cosa ci mancava cosa ci manca proprio come come ci manca oltretutto la la pasqua no era due anni che non facevamo pasqua e pasqua era la gita fuori porta era il turismo diciamo culturale e così via quindi secondo me quello che viene passato per un boom io me lo auguro però i conti si fanno sempre alla fine era proprio è proprio determinato io l'ho fatto in un mio video che pubblicherò breve ma era proprio determinato diciamo da esagero un po nel dire insomma come come il drogato che gli manca la dose no c'è una crisi di astinenza cioè volevamo tutti festeggiare la pasqua volevamo tutti con con il minimo di restrizioni possibili eravamo certo poi c'è stato pure un bellissimo tempo tutti e quattro i giorni quindi figuriamoci esatto esatto quindi per me tutto questo ha creato un po di ottimismo diciamo però è positivo è io vorrei proprio togliere tutte le sanzioni quindi figurati no positivo non so fino a che punto diciamo si possa parlare di boom perché non lo so va beh mi auguro che davvero poi alla fine i calcoli siano siano positivi per il nostro comparto per appunto per porto sì no ma allora sai giancarlo anche lì poi tu sicuramente sei più statistico di me e credo che io stia dicendo una cosa abbastanza banale ma sicuramente dopo questi quattro giorni i conti saranno anche positivi per per magari non per tutti però insomma chi chi è riuscito ad avere il pienone si parlava proprio di prenotazioni anche se poi è stata una pasqua last minute no molti hanno prenotato all'ultimo ma poco importa poi di fatto ci sono stati dei posti veramente con tutto sold out tutto esaurito quindi indubbiamente dopo questi quattro giorni ci saranno anche dei conti in verde il problema è che bisogna sommarli ai conti in rosso precedenti alle chiusure precedenti quindi il bilancio lo sappiamo benissimo non è che si fa solo su quattro giorni no e poi in prospettiva futura le aziende le attività fanno i bilanci in prospettiva quindi comunque anche capire a seconda del rialzo dei prezzi a seconda delle prenotazioni che arriveranno o non arriveranno capire se questa pasqua è servita a dare una prima spinta o se è stata una parentesi io ovviamente mi auguro che sia una prima spinta però insomma è presto per parlare di boom anche in questo senso sì io che sono uno dei maggiori contribuenti per autostrade per l'italia perché ti muovi certo vabbè a quattro io penso di averla percorsa mille volte non lo so comunque insomma vabbè essendo nato in lombardia e vissuto in veneto quindi insomma la fai avanti e indietro quanto meno tra queste due regioni è la è la mia autostrada ecco percorrenderla ieri tornando in veneto e ho visto una coda chilometrica di persone che uscivano a peschiera del garda ovviamente escono non tanto per andare sul lago perché possono andare in tante altre parti ma per andare in questi diciamo parchi divertimento che ci sono da da quelle parti io non so se qualcuno è riuscito entro la sera a salire su qualche ecco quelle gite così di un giorno in posti nei quali vanno tutti non sono insomma proprio rilassanti a mio avviso io le evito poi non ovviamente non ho più l'età per andare sul sulle attrazioni non so queste queste cose qua però però ecco vabbè vuol dire che cioè l'ho interpretata anche quella in maniera positiva no le persone volevano tornare a vedere a divertirsi poi certo certo bravo io infatti l'ho analizzato più guarda l'ho analizzato anche in altri all'interno di altre trasmissioni in cui mi hanno invitata l'ho proprio anch'io messa da un punto di vista più sociale no al di là dell'economia perché ripeto in quattro giorni due giorni uno perché molti sono andati anche solo una giornata quindi è relativo no fare un bilancio economico però abbiamo assistito proprio alla voglia di tornare anche in mezzo alla gente guarda che c'è c'è stata paura di avvicinarsi alle persone in questi due anni ovviamente quindi questo è un ritornale la normalità e da quel punto di vista quello economico un po' presto per dirlo ecco perfetto ci troviamo esattamente sulla sulla chezza d'onda ok altre questioni come avevi detto tu all'inizio che purtroppo pesano nel senso che tutti noi abbiamo sperimentato da da prendere un caffè o una brioche tutto il resto che i prezzi sono aumentati insomma no indubbiamente indubbiamente guarda io anch'io mi sono mossa questo weekend per mangiare anche una minima cosa comunque effettivamente il prezzo soprattutto in località turistiche chiaramente dove c'è il rincaro dovuto a quello è importante cioè la differenza si nota senza senza dubbio Giancarlo il governo alla prova delle riforme dalla giustizia al fisco e non solo beh sicuramente il lavoro è ancora più arduo e duro per lo scenario in cui ci troviamo perché il governo non solo deve pensare finalmente a queste riforme che sono lì impendi danni e che poi a lungo termine perché sono riforme lunghe insomma danno l'impulso no è anche economico al paese però il governo deve anche risolvere le problematiche che si presentano giorno dopo giorno quindi aiutare le persone le attività economiche i prezzi appunto elevati le attività che non ce la fanno andare avanti ecco cosa ne pensi mi hai fatto una bella domanda nel senso che allora io lo ribadisco sempre il governo può fare poco dal punto di vista strettamente economico finanziario nel senso anche aiuteremo le famiglie i contribuenti le cose sono le solite cose non può cosa può fare il governo le cose che può fare per migliorare il nostro stato sono per esempio le riforme come giustamente detto tu cioè se se ci dice do 2 miliardi 3 miliardi 4 miliardi li sta prendendo da un'altra parte non è che le e se li ha stampati diventano inflazione quindi quando parla il governo di soldi normalmente dice delle bugie così sono più chiaro si può incidere perché chiaramente una buona riforma migliora la vita degli italiani se facessero un'ottima riforma una buona riforma della giustizia la vita degli italiani migliorerebbe enormemente perché tutti noi insomma sappiamo che la giustizia non funziona benissimo quindi una riforma della giustizia una riforma del fisco attenzione noi ho visto proprio ieri siamo al terzo posto se non mi sbaglio come pressione fiscale in europa dopo danimarca e francia ma anche lì siamo al terzo posto quindi vuol dire che abbiamo una pressione fiscale elevatissima ma oltre alla pressione fiscale elevata bisogna anche dire che di per sé la pressione fiscale non sarebbe un qualche cosa di negativo diciamo di default perché se lo stato prende dei soldi dal dal fisco poi li rimette in circolo cioè li rimette in una maniera proficua cioè oppure vanno a finire in sprechi questo è il grande la grande critica che io faccio ai passati governi è che a fronte di una pressione fiscale tremenda mente decisamente alta non ci sono stati servizi ai cittadini adeguati ad una pressione fiscale così perché se uno va a vedere i servizi ai cittadini in francia non parliamo in danimarca sono enormemente superiore a quelli italiani certo questo è un grave problema cioè io sono per ridurre la pressione fiscale ma più perché ritengo che poi dopo i soldi che si incamerano dalle tasse poi lo stato non li spenda molto bene allora tanto vale lasciarli nelle tasche dei cittadini italiani che magari sanno no no chiaro non è insomma il fatto di usarli ma come vengono usati no e quindi insomma la sfiducia è lì Giancarlo allora io ti devo salutare però volevo solo chiederti una cosa invitando i nostri amici a leggere su Trend Online anche ciò che hai scritto tu un tuo approfondimento politici italiani e tedeschi chi sta peggio ma ti sei dedicato a questo ci puoi dire no ci vuoi dire chi sta peggio o andiamo a leggerlo no andate a leggerlo ma non allora io sono rimasto estremamente deluso dal fatto che il presidente della repubblica federale tedesca dopo essere stato trattato così cioè come persona indesiderata non abbia risposto a modo ma anzi si sia scusato eccetera allora cioè io capisco tutto la guerra e tutte le cose però forse anche lì sarà sarà l'età ma insomma vedere 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 i tedeschi che addirittura si inginocchiano nei confronti del di un capo di stato ucraino che insomma sembra che sia abbia la levatura del grande statista perché io non mi ricordo di una persona che abbia rifiutato una visita del capo di stato tedesco però tenendolo indesiderato cioè una cosa di una gravità e vedere e vedere appunto che in Germania invece sì qualche cosa poi alla fine Scholz l'ha detto perché poi quando è stato invitato lui non ci è andato ma insomma mi ha fatto pensare che i nostri politici sì non siano proprio i peggiori ma non lascio così a qualsiasi ok vabbè lo leggiamo lo leggiamo interessante almeno un approfondimento un po' diverso no e almeno capiamo che non sempre siamo i peggiori dai mettiamola così almeno non sotto tutti i punti di vista allora grazie Giancarlo Marcotti naturalmente ti seguiamo su finanze in chiaro con i tuoi video su trend online come vedete e naturalmente sulle fonti tv anzi ti seguiamo sulle fonti tv su finanze in chiaro e su trend online grazie mille per la collaborazione e buona giornata grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori grazie Giancarlo allora adesso andiamo in pubblicità e poi ancora in diretta sui mercati con le fonti real time analysis aspettiamo anche i vostri messaggi con noi ci sarà Renato De Carolis grazie a tutti grazie a tutti